Un'altra gattina uccisa con colpi di fucile ad aria compressa dopo il caso di Luna del gennaio 2021, pochi giorni fa i carabinieri della stazione di Terranova Bracciolini in Valdarno hanno ricevuto la denuncia da parte di una residente appena rientrata da una passeggiata che aveva trovato la propria gattina di pochi mesi riversa a terra in fin di vita in una pozza di sangue. Inutile la corsa al pronto soccorso veterinario, l'intervento d'urgenza, un pallino aveva attinto agli organi vitali per la piccola gatta non c'è stato nulla da fare. L'esame medico ha consentito di fare luce su quanto era accaduto, qualcuno aveva sparato con un'arma ad aria compressa dei pallini uno dei quali aveva colpito la gattina. I carabinieri si sono immediatamente attivati, il quadro indiziario ha portato a restringere il campo e ad ipotizzare che il responsabile poteva essere un uomo di 70 anni incensurato che vive nella zona e che in più circostanze aveva manifestato la propria insofferenza nei confronti degli animali. I militari hanno così ritrovato nella disponibilità dell'uomo una carabina d'aria compressa di libera vendita e quindi detenuta legalmente, potenzialmente compatibile con le ferite della gattina. L'arma e i relativi pallini sono stati sequestrati e l'uomo denunciato.